che si è posto in terra lega, ma di cui ne abbiamo già l'esperienza che abbiamo consolidato sul campo con ben due altre protocolli che sostanzialmente hanno certificato la volontà dell'iniziativa, ma questo protocollo però, a differenza degli altri due, è quello molto colposo. Sono numeri importanti, 300, che da una parte rappresentano una sfida all'intero apparato amministrativo di questo ordinamento di Tadunino, ma dall'altra parte, venendo come tutta la fattualità di un percorso che la Tadunino inizia al suo interno e anche attraverso le energie esterne, perché questo protocollo possa avere un risultato di vita. Noi siamo pronti a partire, come sarete pronti a partire dall'Unione Sant'Eginio, vi ringrazio il Presidente, i suoi dati, tutti i colori che fanno parte, per questo motivo il sforzo è l'indicazione da parte di Ministro, perché il Dipartimento per le ricette civile di migrazione sta promuovendo una serie di attività anche con altre organizzazioni internazionali, attraverso cioè un modo di rapportarsi per conseguire risultati visibili e tangibili, in una materia in cui sostanzialmente noi tuteliamo i cittadini vulnerabili. In fin dei conti i bisogni che vengono intercettati da parte dell'associazione, attraverso la normativa europea, in particolar modo, la normativa che si ovviene a lunga lunga, inizia del dipendimento, c'è di ricordamento, di potenza. Grazie. Grazie 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 Grazie.